Spera, che cosa ci facciamo qui? Spiegami un po'. Allora, ti ho portato oggi in un laboratorio perché dobbiamo sfidarci a creare il mostro vanilla più epico di sempre, Steph. E anche più forte, perché altrimenti poi non ha senso la sfida, giustamente. Aspetta, Fere, cosa intendi per creare un mostro? Creeremo il nostro mostro. Ma con quelle cose lì un po' inquietanti? Sì, è un altare, Steph, lo puoi dire. È un altare, sì, è molto pesante. Dove l'hai dato fuori un altare, Fere? È un segreto, Steph, non te lo posso dire. E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki. E sono Steph, e che stai dicendo a Minecraft? Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft in cui oggi faremo una cosa molto, molto divertente perché io e Steph creeremo dei mostri personalizzati e che addirittura combatteranno per noi, Steph. È bellissimo, è bellissima la cosa. A me piace l'idea, nel senso, ho sempre voluto creare il mio mostro di Minecraft. È una figata pazzesca, quindi sono felice. Però, Fere, sono un pochettino preoccupato. Perché? Perché, allora, a me fanno un pochettino paura sia questi altari sia il fatto che tu mi hai detto che siamo in un laboratorio. Scusa, Steph. Allora, come pretendi di crearlo? È ovvio che devi fare un rituale magico per poterlo creare, mi sembra giusto. Ma io speravo direttamente di avere delle uova in game mode. Guarda, tipo, facevo così. No, perché altrimenti... Andavo qua, scrivevo un mostro e mettevo il mio mostro, Fere. Ovviamente non puoi scrivere mostro. Comunque, dico, se tu avessi delle uova, non li potresti fare interamente personalizzabili. Qua puoi scegliere totalmente come farli. Tutto. Tutto. La testa, le braccia, le gambe, il torso, tutto. Io posso mettere la testa del creeper, le gambe del ragno e le mani di un golem. Esatto. Oh mio Dio. Esatto. Iniziamo, Fere. Allora, Steph, ovviamente, visto che tu sei l'inesperto oggi, dovrò spiegarti un pochettino come funziona. Va bene. Sei pronto? Guarda che è una cosa molto pericolosa, Steph. Devi essere pronto. Sono prontissimo. Sei coraggioso? Sono coraggiosissimo. Andiamo. Allora, questa è la tua chest personale. Qui troverai tutte le parti del tuo mostro e puoi scegliere quella che preferisci. Ok. Contante, quindi prendi il tuo tempo, Steph, e crea. Vedo corpo e testa. No, 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 ma io non voglio creare. Prese tu mi spieghi. Poi io creerò per i fatti miei con calma. Ah, non puoi iniziare a crearlo? Non voglio la pressione del fare le cose di fretta, Fere. Quindi, ok, qua ci sono i miei pezzi. Potete farne uno dimostrativo, Steph. Fere, non faccio nulla di dimostrativo. Io faccio solo cose belle. Dopodiché, Steph, avrai bisogno di una boccetta rossa, di una boccetta celeste, metti tutto nel tuo altare ed è pronto. Allora, quindi, io teoricamente vado nel mio altare. Esatto, trovi tutto, vedi. Metto boccetta rossa, metto boccetta verde, metto i pezzi che ho scelto e si crea. Esatto. Ok, beh, mi sembra semplice. Mi fai vedere come ne crei uno, Fere? Ok, devo andare proprio io. Sì, sì, sì. Ma scusa, tu non l'hai voluto creare, io lo devo creare. Esatto. Tu lo fai più bello del mio, non è giusto. No, 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 al massimo lo creiamo assieme. No, 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 aspetta. Prendiamo una monettina, tiriamo la monettina e decidiamo chi lo fa per prima. Ma non abbiamo una monettina. Beh, cerco una monettina, Fere. Mi è già caduta. Stiamo a calmi. Che persona è inutile, Fere, che persona è inutile. No, no, Fere, ci siamo. Quindi mi hai detto croce, giusto? Croce. Vado? Vai. Faccio di attente vedere Consolini. Vai. È uscito. È croce. Non sapevo. Non so se si vede. Consolini, questo qua, è croce. È una gara, il primo a farlo più brutto o più bello? Più mostruoso. Più mostruoso. Ok, quindi qualcosa che incute timore. Il corpo? Eh, questo è difficile. Eh, io mi sto divertendo tanto, eh. Ok. E poi le gambe? No. Forse. Eh, non lo so. Eh, non mi so scegliere. Devo essere sincera. Non mi so scegliere. Vado nell'altare. Metto tutto. Ok. Ok. Ok, Fere, non sbirciare il mio, eh. No, non sto sbirciando. Mi sto facendo gli affari miei, Steph. Vai. Aspetta, faccio il mio, poi ne discutiamo, Steph. Poi ne discutiamo. Scusa un attimo. Ok. Stanno già andando in giro? Perché lo intravedo. Aspetta, aspetta. È ridicolo. Sembra uno scolaretto perché ha colori troppo carini. Non so perché è successa questa cosa. Eh, non lo so, infatti. Fere, ma che cos'è? Ha il braccio troppo lungo e non riesce a stare in piedi, povero. Però è bello, eh. È bello, è bello. Dai, non c'è bisogno che ti spieghi che pezzi ho utilizzato perché mi sembra anche evidente. Allora, personalmente nessuno dei due fa paura. Perché è la testa storta, caro mio? Perché? Perché ha il corpo del golem che è troppo grosso. Sì, ma la testa è da un lato. Però il mio è più mostruoso perché ha la testa storta, ammettilo. E anche queste braccia che non gli permettono di stare bene in piedi. Guarda per il mio. Guarda proprio, fai un primo piano sul mio. Allora, ok. Ok, non sembra uno scolaretto? Sembra che è una gonna. Sembra proprio, no, ma sembra proprio uno che è appena uscito da scuola. Perché ha tutti questi colori allegri e carini combinati. E sembra carino, sembra un bambino. Poi anche un po' basso perché queste gambe non mi aspettavo facessero questo effetto. Iniziano a picchiarsi, vai! Vediamo anche quelle più forti. No, devi picchiare anche tu, è lui il mio target, vai! Ok, ok. Picchati, picchati! Mamma mia. Ok, aspetta, aspetta! Ma il tuo è pazzo con quelle braccia, Fere? È perché il tuo con le braccia irà così che non riesce neanche a muoverle. Guardalo, guardalo! Ma che... E adesso aspetta, non lo uccidere! Non lo uccidere, non lo puoi uccidere, non vale! È fortissimo! Ok, ok. Io farei quello che fa più ridere. Ok. Quindi il più buffo, ok? Ok, vado, 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 vado. Allora, 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 devo scegliere bene. Non hai speranze? Non hai speranze? Non lo so, Steph! Non lo so! Ho già vinto! Sto pensando accidente, allora facciamo così. Ho già vinto! Taggete, taggete, taggete! Dimmi quando stai iniziando a mettere così... Sì, un attimino, sto prendendo gli ingredienti che mi servono e ho fatto. Ok, dammi il via per quando creare il mio. Io lo sto già intravedendo, Fere non puoi vincere, Fere non puoi vincere. Ok, ci sono! Vado? Vai! Aspetta, vado a creare il mio. Dai, crea sì! Perché non si gira poi? Abbiamo pensato la stessa cosa. Guarda il mio, Fere. Dai, la testa l'abbiamo fatta uguale, Fere. Allora, abbiamo... Allora, io ho un problemino. Ok. Perché gli ho messo le gambe del creeper? Ma non ho capito perché gli si sono sdoppiate. Eh, lo vedi? Perché il creeper ha due gambe, Fere. Secondo me fa più ridere il mio. Non lo so, dai. Sai perché? Perché il pollo nel corpo del golem, secondo me, fa un po' più ridere. Invece il colore del maiale ci sta quasi bene. Non è vero, non ci sta bene. Guarda in faccia il mio. Guarda le zampe che è tutto storto. Guarda negli occhi il mio pollo. Ecco, vedi che fa ridere. E guarda il mio, scusa, guardalo. Fa meno ridere. Non è vero, non fa meno ridere. Perché è sbagliato le mani, le hai messo quelle da mucca e ci stanno abbastanza bene. Avevo paura che poi non riuscisse a camminare. Eh, vabbè, ma avremmo fatto più ridere. Dobbiamo adesso creare il mostro che in assoluto fa più tenerezza di sempre. Ok. Ok, quindi deve proprio ispirare tenerezza. Ok. E io so già da che cosa partire. E secondo me lo farà anche lei. Non lo so, non lo so. Non so cosa stai pensando. Allora, abbiamo questo. Io ho scelto i miei pezzi, Fer. Tu li scelti? Ok, io, Steph. Sì, sì, sì. Abbiamo questo. Sono prontissima. Ah, mi sono dimenticato un braccio. Mi dispiace. Piccolo particolare. Aspettate. Io sto iniziando. Mi serve un braccio. Ok, piccolo dettaglio. Eccomi. Ci sono. Allora, mettiamo questo. Io lo creo, Fer. Vado, anche io. Ok, vai, crearlo prima tu. Dai, voglio guardare il tuo. Questa volta guardiamo il tuo per primo. Vado, creati. Eccolo qua. Non pensavo che sarebbe uscito così fantastico. Ti dico la verità. Vieni qui, vieni. Seguimi. Vieni. Non stare lì, fatti vedere. Aspetta, aspetta. Basta spingerlo un po' e poi si schioda. Ok, ok. Vieni qua, su. Non fare il timido. Dimmi che non è troppo carino. Dimmi che non è troppo carino. Ammetto che non credo che il mio sarà così carino. Però ci devo provare. Sei pronta? Vai. Ok. Oddio, starai faiuto. Cioè, col corpo spalacchiato della pecora non è che fa una buona impressione. Scusa se te lo dico. Beh, ma deve fare pena. Tenerezza, pena. Allora, pena la fa di sicuro. Tenerezza non lo so. Perché vabbè, gli occhietti un po' ti fanno tenerezza. Dai. Il problema è che è un po' storto, perché le gambe non ci stanno bene. E poi quel corpo spalacchiato fa proprio pena, poverino. Fere, ma che cosa vale? Fa male. No, non arriva, vedi. Ma cosa lancia? Tipo lacrime. Le sue lacrime, Fere. Le sue lacrime. È molto triste, poverino. Beh, questo ci te ne va a fartelo vedere. È un bonus. È un bonus così. Che tu lo puoi evocare. È un po' strano. È un po' ambiguo. Però è carino. Ma è scarso. Eh, certo. Penso che sia più grande. Se li giri intorno non riesci neanche a colpirmi. Ti ha colpito, però. Eh, adesso sì. Ti colpisce. Ti sta colpendo sempre. Eh, vabbè. Però se corro. Allora, quando lo picchi succedono pure cose strane. Quindi non so se vuoi provare, Steph. L'ho già colpito. Sì. Vai. Cosa fa? Allora, quando io l'ho picchiato. Ecco. Ecco, vedi. Vedi. Fere, adesso sta tenendo sangue. Adesso è cattivo. Fa più danno. Esatto. Ti aiuto. Perché poi succedono altre cose strane. Vai, 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 vai. Picchialo, picchialo tu. Attenta, perché ti tiene distanza. È cattivo. Sì, sì, sì. È cattivo. È cattivo. Ok, brava, brava, brava. Sicuramente ci stai quasi a stenderla. È fortissimo. È fortissimo. Torna da me, Fere. Torna da me in fretta. Eccomi. Vada alla carica. Non ho armi. Non ho armi. Vada alla carica. Ok. Penso che non sia finita qui, vedi? Fere. Rimane il corpo con la... Vabbè, è una cosa incredibile. Ok. Ma la testa continua a lanciare lacrime di sangue. Il corpo l'ho steso. Smettila. Basta. Vabbè, dai, era strano. Era giusto farlo vedere. Lui forse è il mostro più mostruoso. Perché... E basta! Ultima sfida. Te lo dico. È proprio l'ultima delle ultime. Quindi ci giochiamo tutto in base a come avranno votato i consolini. Questa volta ci sfidiamo a chi fa il mostro più deforme. Ok. Ok. Quindi deve avere una differenza gigantesca tra i vari arti. Ok. Va bene. È una sfida difficile. Ok, credo di esserci. Ci sono anch'io. Allora, ti dico, Steph. No, no. Anzi, ho dimenticato un pezzo. Aspetta. Ho dimenticato un braccio. Non hai? No, no. La più pallida idea di come posso uscire. Perché è strano. Sto facendo una cosa molto strana. Cioè, potrebbe funzionare come non funzionare. Capito? Non so. Non so. Ti dico la verità. Io sto osservando il mio. Non lo so se va bene. Spero di sì. Vado. Allora, vai. Vado. Facci vedere. Allora, deforme mi sembra deforme. È già da qui. Tu mi hai detto il più deforme. Io ho rispettato le regole, Steph. Deforme, deforme. Cioè, quelle sono le braccia. Sì. E queste sono le gambe. Aspetta, facciamolo a camminare in giro. E quella è la testa. Ciao, bello. Vieni. Vieni, vieni. Si vergogna. Vabbè, velocissimo poi. Oh, mio Dio. E tu mi hai detto deforme. Io ti ho accontentato, no? Mi sa che hai vinto. Beh, vediamo. Vediamo, eh. Non si sa mai. Magari è meglio di quanto penso. Beh, anche il mio fa il suo lavoro. O no? Vuoi vedere? Ma ce l'ha le gambe? Sì, ma sono quelle del pollo. Ah, e non si vedono neanche. Esatto. E le braccia vanno sotto terra da quanto sono grandi rispetto alle sue gambe. Aspetta, stali un po' su. Fatti vedere. Sei a metà. E Feroi mi sa che ci sta dicendo che non sa neanche camminare. Capisci? Secondo me sì. Vero. Allora, deformi sono deformi entrambi, eh. Poi non so, io sono di parte. A me il mio con la testa di lupo così mi piace un sacco. Quindi è ovvio che... Guarda le gambette. Ce la fa, ce la fa, ce la fa. Va al rallentatore, poverino. Ragazzi, lasciate un bel like. È stata la prima volta che vi ho detto il nostro video. Potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Grazie a tutti.